E allora buongiorno, allora buongiorno e benvenuti, buona epifania anche se è una festa che lasciamo perdere, buona epifania il cazzo, la domenica delle festività natalizie che già lasciano il tempo che trovano, però quest'oggi ne approfittiamo per fare un video che vi invito a condividere su un fenomeno che ultimamente vedo così diffuso, quanto altamente fonte di rottura di cazzo ormai palese, cioè questo proliferare di pagine di microedonismo personalistico, microedonismo finanziario con i reel dell'imprenditorotto, il mentalist, il mentadent coach di turno che ti spiega come lui a scuola fosse disincoraggiato dai professori mentre adesso fa un milione di euro al giorno di fatturato o canonico per quel che riguarda il panorama italiano, quel reel dell'imprenditore che è a fare la benzina e dice io sì ho una Ferrari, ne ho altre tre nel mio garage, però dovrebbero abbassare le tasse per la povera gente. Questo poi i video, quelli che proliferano sull'invidia che in Italia la gente non apprezza l'imprenditore che ha successo perché c'è il morbo dell'invidia, ma in generale tutto questo sottobosco, questa sottocultura poi profondamente organica in senso lato che il mondo non è un insieme anche complesso di condizionamenti, di fattori superiori, ma è un qualcosa che a te non deve interessare perché se tu ben mentalizzato, se tu ti convinci di te stesso, se tu credi profondamente nella scalata, il successo e te ne fotti, di quelli che sono i condizionamenti puoi avere quello che vuoi. In realtà è un'idea assolutamente fallace, anche perché poi spesso da chi è che ci viene propinata sta cosa, queste storie, capito, di eccellenza, vai a vedere la maggior parte è gente o che è nata nella bambagia o che è figlia di gente già ricca che poi viene a farti la morale su come diventare ricchi o provarci, questa retorica da get rich or die trying, queste cagate qui, no? Oppure tutta anche l'ignoranza, diciamo il cringe che senti questi video del tizio che ti racconta come è partito dal garage, lui si è fatto il mazzo e perché così con sotto, col sottofondo la musica di Einaudi che sembra che ti stiano raccontando la teoria dei campi unificati di Einstein, capito, che ti spiega la teoria delle stringhe, in realtà sono concetti di una povertà, spesso di una banalità rutilante, che partono tutti dalla stessa idea, cioè quasi che il mondo sia un qualcosa che a te non deve interessare perché tutto parte da te, in realtà non è assolutamente così perché noi purtroppo so che è brutto da dire, so che c'è stata tutta una cultura che appunto è pienamente identificata da questo tipo di realtà che ti vuole portare a credere che tu sei quasi una bolla, capito, e che qualsiasi cosa che tu decidi di fare può diventare reale, in realtà non è assolutamente così perché viviamo in una società complessa, siamo figli e siamo frutto di pesanti condizionamenti, tutto questo eccedere con il discorso del libero arbitrio che non a caso nasce in una società profondamente individualista e che promuove l'individualismo è un qualcosa di non vero, lo stesso concetto di libero arbitrio è assolutamente inflazionato e contestabile, magari lo faremo anche in un altro video perché se tu mi metti in una pista di atletica e mi dici guarda tu sei liberissimo di fare 100 metri di corsa e di stabilire il record mondiale però mi appiccichi una palla di ferro al cazzo e devo farlo con quella, sì ho il libero arbitrio di poterlo fare, oppure nasco magari con delle difficoltà motorie, sì c'ho il libero arbitrio però il libero arbitrio è un concetto assolutamente non solo vago ma anche illusorio e tutte queste realtà pescano pienamente da questa che poi è un'illusione, cioè l'illuderti che tutto è possibile, che nella tua vita basta uno schiocco di dita, basta la retorica anche della fatica, basta che tu ti impegni, basta che rimuovi le tue pigrizie, i tuoi condizionamenti, quanta retorica sui condizionamenti che poi banalmente i condizionamenti che ti vogliono togliere sarebbero anche più salutari della presunta libertà che ti offrono loro, perché magari sono figli di resistenze popolari derivati da una cultura magari che aveva una coscienza di classe più forte di quanto non c'è attualmente, la famosa questione della comfort zone, tanto l'attacco alla comfort zone che spesso è l'attacco a quelle che erano certezze, costate sudore, costate anni di lotte, oggi non solo devi recedere ma devi anche essere contento di recedere da quella situazione di comodità sociale, economica, fantoziana, non solo devi recedere ma devi anche essere contento di recedervi e di approdare alla libertà che poi spesso è la legge della giungla perché c'è tutta questa retorica dell'individualismo che va invece accettato, va sospinto, anche banalmente tutte le questioni sui competitor, la questione dei competitor, questa sensazione di lotta perenne nella quale tu sei in lotta contro tutti, ma il contesto non è importante perché basta che tu ci creda, basta che tu ci abbia voglia e ti poni nella testa l'obiettivo di voler diventare e poi diventare. Banalmente basta vedere i dati sulla ridistribuzione della ricchezza negli ultimi decenni, non mi sembra che la cosa sia così più semplice e poi ripeto bisogna sempre contare cose molto più complesse purtroppo che non rientrano in un reel di Instagram con la musichetta di Einaudi o chi volete voi sui contesti, il contesto nel quale una persona nasce, le decisioni banalmente economiche o politiche che subiamo perché so che è brutto da dire ma noi siamo anche frutto di ciò che subiamo, di ciò che siamo costretti a subire e questa cultura edonistica, poi microedonismo finanziario crea anche delle pesanti frustrazioni perché adesso poi con la società dell'immagine l'obiettivo sembra essere diventato quello di prendere il ferrarino, il SUV, andare in piscina con le fighe per poi fare la foto e postarla sui social per soddisfare il proprio ego, capito? e quando non ce la fai, quando non ci riesci sei bombardato da questa retorica che ti invita a svegliarti, a non essere un fallito, a darti da fare perché basta che ti dai da fare e le cose arrivano. Ci aggiungo anche che poi spesso sono collegate tutte quelle interviste che poi vengono fuori, guarda caso al CEO manager di turno, all'imprenditorotto di turno che legandosi profondamente a questa cultura dell'accettazione del sacrificio, della rinuncia alla comfort zone, cosa lo senti dire? Ah purtroppo i giovani di oggi non hanno più la cultura del sacrificio, si è smarrita la voglia di sporcarsi le mani, io offro un lavoro, ho passato mesi ad offrire un lavoro ma nessuno si è fatto avanti perché i giovani di oggi non vogliono sporcarsi le mani, non c'è più questa cultura del sacrificio, poi magari sarebbe interessante vedere spesso cosa offri effettivamente, in cosa consiste quel lavoro, lo stipendio, la retribuzione, le ore lavorate, se è vero oppure ti dice una cosa e poi un'altra, tutte cose concatenate tra loro di questa microcultura poi che è un individualismo scientifico, cioè nel senso viene ricercato, viene ricercata l'astrazione della persona, viene invogliata la singola persona ad elevarsi, gli viene venduta questa elevazione che poi oltre che di impossibile realizzazione e anche incompleta, ti viene venduta e le persone più semplici si illudono che quella sia la strada, spesso poi prendono anche l'eccezione, è come uno che vuole prendere il gioco dell'otto, ti mostra i due o tre vincitori e ti dice vedi se giochi all'otto e vinci puoi diventare come loro, poi però non sai quanta gente ha giocato all'otto e non ce l'ha fatta, si è persa per strada, magari si è anche mangiata il patrimonio per giocarci, capito? Il discorso è molto simile ed è anche un qualcosa che poi nell'atto pratico della vita delle persone si è spinto agli estremi, è anche molto pericoloso perché nel momento in cui questa cultura qui diventa imperante, cioè una cultura che non ti fa capire che nella vita esistono delle sovrastrutture, esistono dei sistemi complessi dei quali tu sei a volte vittima, a volte schiavo, a volte ne benefici perché ci sono anche cose positive ma spesso siamo comunque frutto di imposizioni, di sistemi, di sovrastrutture su cui noi possiamo poco perché sono prese da gente che sta sopra di noi, che è anche difficile capire chi sono, come operano, perché eppure hanno un riflesso enorme sulla nostra vita, su me che sto parlando a voi, su quello che ci succede attorno. No, questa cultura, questo calvinismo distorto diciamo che, o funzionale, che scarica tutto sull'individuo è anche molto rischioso a volte perché poi se una persona è portata a credere che tutto dipende da se stessa e comunque qualsiasi siano i condizionamenti esterni, sì se vuoi ce la fai, se vuoi te lo vai a prendere, tutte queste cagate qua, ok? Quando le cose vanno bene ti senti il re del mondo, selfie, figa, aperitivi, così, no? Banalmente poi quando le cose vanno male, se tu sei portato a credere che le cose vanno male solo per colpa tua, solo perché non sei adatto tu, solo perché non va bene, possono anche succedere cose spiacevoli. Sono successe tante volte, anche qui dalle mie parti, quando c'era la crisi economica, tanta gente che gli hai visto, proprio gli è crollato il mondo addosso, perché il mondo che si erano costruiti era figlio di questo tipo magari di cultura imposta, che non ti fa riflettere, che non ti porta a riflettere sulle cause comuni, ma invece riflette tutto su di te, ti lascia poi nel momento della necessità magari da solo, perché è un fenomeno anche che crea intrinsecamente solitudine, no? E questi poi sono i risultati. Poi, quando qualcuno, anche molti non hanno gli strumenti magari per contestare radicalmente questo tipo di approccio, questo tipo di divisione del mondo, no? Ma a livello popolare va anche detto che c'è anche, ci sono anche molte persone che si rendono conto della fallaccia di questa cultura, no? Specie in Italia, però magari non hanno la forza, la capacità dialettica per esplicarle in modo completo e c'è questa diffidenza di fondo e questa diffidenza di fondo ti viene sempre rimproverata, bollata perché sei invidioso, perché rosichi, rosichi o sei invidioso perché disprezzi o magari non hai interesse nel vedere la vita di quel micro esempio che ti portano per convincerti ad abbracciare questo micro edonismo del cazzo. No, in realtà è che è una cultura che cosa comporta? Cioè di questa accumulazione di bene, di edonismo, che tipo di evoluzione comporta? Che tipo di consapevolezza poi approda? Spesso al niente, spesso al niente, spesso a tentativi di emulazione che restano a metà, che sono parziali, che creano insoddisfazione, che creano malessere anche perché purtroppo nascono da un'idea di mondo che è profondamente anche sbagliata, perché ripeto, sarebbe molto più utile e invece avere un approccio diverso, più insieme, più complesso alle cose, però è giusto vedere i reel con la musichetta di Einaudi che ti spiegano che se tu vuoi diventare, che è giusto accettare lo stipendio da 2 euro, una scorreggia all'ora, perché un domani tu potrai diventare lo stesso imprenditore che oggi fa i reel e che spiega come gira il mondo alle persone povere. Ma andate a cagare! Grazie a tutti!